Sono al binario 1, allontanarsi dalla linea che fa Guarda che fumo che fa, guarda che fumo che fa, aspettate lì, state fermi Ecco il treno a vapore, sta arrivando Guarda che fumo nero che fa E salutate le zie che sono lì sopra Guarda, stai lì seduto State fermi eh Salutate le zie Guarda L'hai visto? Eccolo Non si sono, non si sono facciatele Ah vabbè, hai visto che gli dà la mano, la cosa elettrica Eccolo